ciao amici sono gigi cifarelli e sono qui per presentarvi l'ennesima meraviglia del liutaio emanuele d'alò un art top in pioppo nero legno massello scavato a mano con le classiche forme della delle grandi mamme chitarre da jazz di sempre e con la particolarità di avere delle corde in nylon sono rimasto anch'io molto sorpreso e colpito non ci resta che ascoltarla sia spenta che è accesa pronti ok partiamo musica 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 ok allora prima ho suonato con la chitarra amplificata e solamente usando praticamente il pollice the thumb, the puss invece adesso per farvi sentire un po il suono suonerò un po col pollice un po con le dita e anche un po col plettro e stavolta vi faccio sentire la chitarra senza l'ausilio dell'amplificatore allora sentirete solamente il suono vero e naturale di questo bellissimo strumento musica 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 Ok. Adesso userò le dita tutte insieme, così sentirete un altro tipo di sonorità. Ok. Adesso prendiamo un pletro. Ok. Ok. Shunky instrument. Pioppo nero. Ok. 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 Ok.